Oggi, anche per piccoli spostamenti, si è soliti usare i mezzi privati, generando altro inquinamento e privando i bambini della libertà di muoversi e di fruire degli spazi urbani. La loro salute fisica e mentale ne risente. Con i percorsi sicuri Casa Scuola nasce una speciale iniziativa che contribuisce a creare un ambiente, una mobilità e una società sostenibili. Per favorire l'uso della bicicletta o il muoversi a piedi in sicurezza nei percorsi tra casa e scuola, la Regione Emilia-Romagna ha avviato un progetto che realizza in nove città capoluogo infrastrutture scelte e progettate insieme a scuole e cittadini. I progetti presentati includono la creazione o la messa in sicurezza di piste ciclabili e zone pedonali, la creazione di zone a 30 km orari, il rifacimento della segnaletica stradale, la riqualificazione dello spazio attorno alle scuole, laboratori e incontri per organizzare spostamenti sicuri casa-scuola. Alcuni progetti propongono anche l'avvio o l'ulteriore sviluppo di pedibus o bicibus, autobus umani che sotto la guida di due o più adulti accompagnano a scuola bambini e ragazzi, a piedi o in bicicletta, in base ad un orario e un itinerario prestabiliti. Troppo spesso i cittadini vedono eseguire nel loro territorio lavori ed opere di cui non sono a conoscenza. Il progetto promuove invece una metodologia di lavoro che coinvolge nelle scelte i cittadini che abitano, studiano e lavorano nel territorio in cui si realizza l'opera. Il risultato cambia completamente con la partecipazione fin dall'inizio dei soggetti interessati. Gli interventi nei comuni sono studiati, progettati e realizzati applicando quelli che vengono chiamati processi partecipativi, ovvero coinvolgendo in ogni fase le diverse persone interessate, che in questo progetto sono in particolare bambini e ragazzi, famiglie, insegnanti e dirigenti scolastici. Vengono inoltre coinvolte anche polizia municipale, associazioni, aziende USL, pediatri, quartieri e circoscrizioni e chiunque dimostri interesse. Si avvia così un dialogo non solo sulle criticità e sulle possibili soluzioni, ma anche sulle modalità di gestione della mobilità a casa-scuola. Il processo partecipativo consente di focalizzare l'intervento più auspicato e di raccogliere le informazioni necessarie per una progettazione mirata. Sulla base del lavoro svolto e delle indicazioni raccolte, i tecnici comunali procedono alla progettazione tecnica e alla realizzazione dell'opera, che andrà poi monitorata per verificare il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre con la partecipazione della scuola e delle famiglie. Con questo progetto i bambini e i ragazzi possono approfondire le ripercussioni sulla loro salute dell'inquinamento e della mancanza di movimento. Inoltre si crea un'importante occasione per acquisire una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e una maggiore conoscenza del territorio in cui si vive e ci si muove. Il progetto è realizzato dalle forze e risorse congiunte di diversi enti, integrando gli strumenti educativi e partecipativi con i programmi delle amministrazioni. Il servizio comunicazione ed educazione alla sostenibilità assicura le attività di progettazione partecipata attraverso i centri di educazione ambientale, che nei territori promuovono incontri formativi e laboratori e gestiscono le nuove proposte. Il servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza garantisce al progetto il supporto scientifico, formativo e metodologico della società Camina, città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza. Il servizio mobilità urbana e trasporto locale finanzia al 50% la realizzazione delle opere. Da parte loro i comuni che aderiscono all'iniziativa cofinanziano i progetti al 50% e anche a livello comunale diversi settori collaborano per unire forze e competenze e arrivare a infrastrutture ottimali. La metodologia e l'approccio attivati con questo progetto sono un esempio di educazione alla sostenibilità così come voluta da ONU e UNESCO. Un concreto esempio di come gli strumenti educativi e partecipativi possono integrarsi con le politiche di settore aumentandone significativamente l'efficacia. L'auspicio è che questo metodo di lavoro si diffonda e consolidi sempre più.